Ripristinare il collegamento via mare tra Pescara e la Croazia è l'obiettivo della Confcommercio Pescara che sottolinea l'importanza di rendere idonei i fondali per ospitare le navi per il trasporto dei passeggeri con un'opera di dragaggio del porto. È il terzo anno che noi siamo fuori dal mercato marittimo in quanto la regione Abruzzo non è riuscita con i suoi porti a consentire il collegamento tra l'Abruzzo e la Croazia. C'è stato in atto un bando di gara che consentirà domani una compagnia di scegliere il porto noi in attesa di questa scelta, in attesa di questa attività chiediamo da subito un collegamento con un mezzo veloce ma che se non è il porto di Spalto non è il nostro problema, il nostro problema è come arrivare in Croazia. Dubrovnik è un porto accogliente e secondo me è un porto interessato a creare un collegamento con la nostra regione con la parte a ovest di Pescara, io credo che noi ci dobbiamo spingere. Poi abbiamo questo problema dei fanghi depositati sulla vasca di Colmato che sono 200.000 m3 che devono essere stoccati entro fine mese. Quindi ci sono delle attività in essere che se si mettono insieme tutte le sinergie, meno male che siamo all'interno dell'autorità portuale, io credo che adesso il ruolo non è più un ruolo istituzionale locale ma è un ruolo di autorità e quindi noi dobbiamo suggerire l'autorità ma anche sollecitare l'autorità perché se c'è stato un bando di gara due mesi fa e è andato deserto molto probabilmente è da chiedersi perché è andato deserto.